Un accordo tra le sigle sindacali e l'azienda Brioni Roman Style è stato raggiunto nella serata di ieri. L'accordo prevede la chiusura di tutte e tre gli stabilimenti, ovvero Penne, Montebello di Bertone, Civitella e Casanova dal 13 marzo fino al 18 compreso. L'unica eccezione riguarda gli addetti allo sviluppo della collezione, compresa la prototipia o gli addetti al magazzino che potrebbero rientrare al lavoro già lunedì 16. I giorni di fermo comunicano le sigle sindacali saranno coperti dalla banca ore negativa, a meno che aggiungono non arrivino novità a riguardo di ammortizzatori sociali. In ogni modo mercoledì 18 le RSU di ogni stabilimento incontreranno di nuovo l'azienda per monitorare la situazione. In ogni caso i lavoratori che non vorranno tornare al lavoro possono avvalersi della DPCM e chiedere le ferie che l'azienda è tenuta non ostacolare. Ieri sera dopo una giornata concitata alle 21 siamo riusciti a fare un accordo con la direzione aziendale di Brioni per la chiusura dei tre stabilimenti della zona Vestina, Penne, Montebello e Civitella. Questo è avvenuto dopo il sopralluogo che c'è stato nel pomeriggio sia nel sito di Penne sia nel sito di Montebello sia nel sito di Civitella dove le RSU hanno risultato non corrette condizioni per tornare al lavoro. Ovviamente noi abbiamo tutta l'intenzione di far partire l'attività produttiva ma per mettere sicurezza i lavoratori e per non far lavorare con l'ansia abbiamo bisogno che l'azienda in questi giorni si allini al DPCM cosa che sta già in parte facendo ma stiamo chiedendo di continuo la sicurezza sui luoghi del lavoro chiedendo anche di dispositivi di protezione individuale. Mercoledì pomeriggio ci rivedremo per monitorare il punto della situazione e se tutto va come previsto giovedì i lavoratori di Brioni torneranno a lavorare. Fermo restando l'evoluzione che c'è sul coronavirus perché questo è invoderabile e non possiamo sicuramente prevederlo.